Ecoambiente chiude l'accordo con i suoi dipendenti per i nuovi contratti di secondo livello. Risolutiva la riunione fra le parti tenutasi ieri, che ha suggellato l'intesa sul rinnovo dei contratti fino al 31 dicembre 2020. Un patto che ha portato alla revoca dello stato di agitazione proclamato nei giorni scorsi e che permetterà allo stir di Battipaglia di tornare a lavorare a pieno regime.